Adoro questo incarico, però è in ballo la democrazia e la strada migliore è passare la torcia alle nuove generazioni. Con queste parole Biden spiega agli americani le ragioni del suo passo indietro. Essere il vostro presidente è stato l'onore della mia vita, aggiunge. Si ritira dalla corsa alla Casa Bianca perché la minaccia alla Repubblica è il ritorno di Trump e allora di nuovo indica la vice Kamala Harris come via per evitare la sconfitta dei democratici. Lei dice è esperta, tosta e capace. Qui siamo a Nashville, in Tennessee, in Lover Broadway, il quartiere dello shopping e del divertimento e in molti hanno approvato la decisione del presidente. Ora è meglio che si occupi di se stesso, afferma questa donna. Lei invece sottolinea che è giunto il momento di portare le nuove generazioni in politica, elogiando Kamala Harris. Trump in un comizio in North Carolina ci va giù pesante, rivendica i suoi toni. Kamala Harris gets in, she would be the most... Abbiamo sconfitto il peggior presidente della storia, dice. Kamala è ancora peggio, è una pazza terribile, distruggerà il nostro paese, è una lunatica della sinistra radicale e l'accusa di voler giustiziare i neonati con il suo programma sull'aborto. Intanto Kamala Harris riceve da Obama l'impegno di un sostegno pubblico alla sua candidatura. In privato l'ha già fatto, si discute su come farli comparire insieme durante la campagna elettorale, a sostenerla anche Michelle Obama. Grazie a tutti.